Ciao, ecco come funziona SGT Print Interactive. Premi per 3 secondi questo tasto. Con il tasto Select, seleziona il logo etichetta e clicca Enter. Sempre con il tasto Select, richiama i template delle etichette. Con questo tasto scorri e seleziona l'etichetta come quella che hai selezionato sul modulo. Le prime tre cifre sono il tuo codice operatore. Le ultime due cifre sono il numero del ciclo della giornata con la stessa autoclave. Ora clicca Enter e premendo ripetutamente questo tasto indica il numero di etichette che vuoi stampare. Adesso clicca Enter per stampare. Come vedi sulle etichette è presente un numero di lotto che è composto da, il tuo codice operatore. Sei cifre che indicano la data di oggi. Due cifre che indicano il numero di ciclo della giornata con la stessa autoclave. Ti consiglio di usare questa logica anche se utilizzi un metodo di tracciabilità manuale. SGT Print Interactive, stampa anche un QR code. Scansionando il QR code con uno smartphone accederai velocemente sul tuo archivio dati SGT. Se invece utilizzi SGT Print senza il sistema di rintracciabilità SGT, l'etichetta sarà così. Spero di esserti stata utile. Ciao. Buon lavoro.